Dalle bucoliche di Virgilio al Marcovaldo di Calvino, passando per il dialogo della natura e di un islandese di Leopardi, fino ad arrivare alle opere di Giorgio Caproni e Paolo Volponi. Questi non sono che alcuni degli autori condotti all'interno del meraviglioso spazio espositivo dell'ex officina dei Tram, in vicolo del Guazzo a Piacenza, dalle letture appassionate degli studenti del liceo delle scienze umane, delle scienze applicate e del liceo economico-sociale. Tema, il rapporto tra uomo, ambiente e natura, una riflessione profonda su un sempre più delicato equilibrio che specialmente nei giorni nostri si sta sottigliando enormemente. A coronare le letture dei giovani interpreti, le meravigliose esposizioni della mostra d'arte contemporanea Territoria, organizzate dalla Galleria Il Lepre. L'iniziativa Libriamoci, giornata di lettura nelle scuole, è un'attività promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e si rivolge agli istituti di tutta Italia, invitandogli a organizzare momenti di lettura pubblica ad alta voce. Piacenza ha risposto così.